Ciao tifoso bianconero benvenuti nel canale Juventus oggi. Iscrivetevi al canale, e lasciate un like al video, per non perderti nessuna novità dalla Juve. La dirigenza della Juventus riceve l'informazione che il Liverpool cercherà di ingaggiare Manuel Locatelli. Il Liverpool ha in programma di fare alcuni investimenti pesanti all'apertura della finestra di trasferimento e il primo nome sulla lista degli inglesi è Manuel Locatelli. Locatelli è una richiesta del tecnico tedesco Jurgen Klopp che crede che il giocatore italiano sarebbe estremamente positivo per il suo centrocampo, poiché può dare equilibrio difensivo e offensivo alla squadra. Nonostante Locatelli abbia avuto buone prestazioni nel centrocampo della Juventus, la Juve è aperta a trattative, tuttavia, solo con offerte superiori a 55 milioni di euro. Nel caso in cui il Liverpool non presenti un'offerta adeguata, Manuel Locatelli rimarrà a Torino. A mio parere, non sarebbe veramente interessante per la Juventus cedere Locatelli per una cifra inferiore a 55 milioni di euro, poiché sta giocando bene nel centrocampo bianconero. Commenta qui sotto, venderesti Locatelli? Vorrei conoscere la tua opinione sull'argomento. Alla prossima occasione!